Ciao a tutti amici benvenuti al mio canale io sono Moira e oggi andiamo avanti con The Sims 4 in questo episodio scopriremo il nuovo quartiere dell'espansione vita in città e pensavo magari di organizzare un raduno con i nostri giovani adulti un po' come quando erano bambini e poi li porteremo tutti nel nuovo quartiere sono le quasi le sei del mattino quindi dai aspettiamo un momento magari controlliamo se devono andare al lavoro eccoci per esempio alle nove lui no lui ha la giornata libera poi alle nove sempre le nove sì meglio fargli prendere la giornata libera quindi chiamiamo lavoro prendi un giorno di vacanza forza svegliatevi tutti bene stella è a casa matteo anche vediamo se concedono il giorno anche mattina sta dormendo non un mattino ma erica sì benissimo abbiamo la giornata libera e allora organizziamo il raduno intanto lo facciamo con matteo perché è lui il leader del gruppo dei nostri giovani adulti una cosa volevo fare intanto ho selezionato dei nuovi hobby diciamo da fare durante i raduni e c'è questo qui che è nuovo cioè giocare a pallacanestro dovrebbe essere proprio un'attività aggiunta con l'espansione vita in città e adesso andremo a scoprirla altra cosa ho visto che abbiamo 100 punti potremmo anche già usarli non sono proprio tantissimi questo cos'è aumento per i compiti no atmosfera no l'atmosfera sinceramente non mi interessa i braccioletti nell'amicizia no no facciamo così o sblocchiamo un saluto tipo questi oppure questo club popolare quando i tuoi sim sono membri di un club popolare otterranno nominazione degli altri sì sì dai scegliamo questo perfetto e adesso organizziamo il raduno vediamo se arrivano anche mattilde lorenzo sì mattilda c'è lorenzo arriva eccolo benissimo e allora andiamo a scoprire il nuovo quartiere ed eccolo qua il quartiere di san maishuno wow allora vediamo un po come è strutturato questo nuovo quartiere sono molto emozionata perché mi sembra veramente bellissimo allora abbiamo qui c'è un parco da solo appartato poverino poi c'è il quartiere i quartieri alti il cuore lussuoso della città i quartieri alti abitano i ricchi potenti e quelli un po strani per cosa c'è allora abbiamo un lounge bar che se io clicco mi dice qualcosa aura romantica ok quindi questo qua è semplicemente un bar probabilmente a c'è anche una piscina un buono sapersi questa invece è la palestra e questi sono gli appartamenti intanto hanno modificato la visuale wow ok si può vedere un antiprima degli appartamenti allora vediamo vista grandiosa giusto perché ci sono anche i tratti dovrebbero averne aggiunti parecchi li avevano già anticipati con l'ultimo aggiornamento infatti li abbiamo assegnati alla casa dei vecchietti adesso ne hanno aggiunti anche di nuovi questo per esempio ha una vista grandiosa le splendide vedute sollevano senza dubbio il morale a chiunque bene ah c'è l'affitto settimanale wow 7500 simoleon a settimana quindi è parecchio caro cauzione 37500 non so cosa sia la cauzione forse se rompi qualcosa di solito la cauzione oppure se te ne vai può essere comunque bellissimo ha una piscina sotto qui praticamente c'è il salotto cucina e di sopra le camere molto molto bello questo questo invece vediamo un po' alla vista grandiosa appartamento servito l'affitto di questo appartamento include il servizio di pulizia bene però sempre 5000 simole sono abbastanza cari ah ma c'è una famiglia no che bello ma ci sono più appartamenti nello stesso palazzo no ma che bella questa cosa una su unità disponibili ah infatti ok allora qui mi diceva uno su uno perché infatti l'appartamento è unico qui uno su due perché uno è già occupato l'altro è libero no ma che bello e questo invece uno su due quindi questo è occupato questo invece è libero 3500 simole una settimana cucina dello chef vediamo dove è la cucina che sarà questa qui probabilmente sembra proprio avere un sapore migliore ah ok benissimo quindi qua si hanno delle abilità superiori di cucina ha delle qualità superiori benissimo ma bella questa cosa in the sims 3 non era così quando abbiamo visto se vi ricordate l'espansione late night ogni palazzo aveva un unico appartamento sì c'erano anche altri appartamenti però non erano controllabili ed erano già affidati a altre famiglie non controllabili bellissima questa cosa di avere più appartamenti nello stesso palazzo qua addirittura ce ne sono tre vicini vivaci i vicini vivono al massimo c'è spesso una festa in corso 500 simole ah questa sarebbe già più abbordabile 300 simole da ristrutturare e questa invece è già abitata ma sapete che io non volevo trasferire le nostre famiglie nel nuovo quartiere perché mi dispiaceva separarli ma se abbiamo più appartamenti negli stessi palazzi diventa una cosa bellissima qua abbiamo due appartamenti uno abitato e l'altro zona sismica qua di intanto in tanto si avverta una leggera scossa probabile che non ci sia di che preoccuparsi ok ah c'è anche un piano di sopra bellissimo attico torre ah questo non me lo fa vedere però ah forse non è un appartamento o è una casa normale questo me lo mostra questo no però mi sembra di vederlo qua in cima qua invece cosa abbiamo pianeta carapop un bar con karaoke ottimo quartiere della moda apprezzato dai giovani e dai sim stilosi il quartiere della moda è anche la sede del festival dell'Itilio e dello Smanet Show ok queste cose dovremo scoprirle con calma questo invece è il mercato delle spezie un quartiere familiare famoso per il festival delle spezie il mercato delle pulci e le vedute sulla zona portuale ah questa è una casetta normale con un viviale ok questo è un altro bar karaoke e qua abbiamo due condomini sembrerebbero wow addirittura quattro appartamenti qui allora questo è da ristrutturare 600 simoleon alla settimana che cosa gremlin quelle cose si rompono spesso è come se ci fossero dei minuscoli folletti che sbucano di notte e le distruggono ma sarebbe ridicolo no? ok e questa invece è infestata la gente del posto dice che questo luogo è infestato ma che ne sanno e invece storica il padrone di casa ha una regola la targa ispiratrice dedicata a un famoso inquilino storico non potrà mai essere rimossa né venduta va bene 600 simoleon questa questa quant'è? 400? sì questi sono già appartamenti più abbordabili ma infatti sono anche piccolini forse per le nostre famiglie non bastano qua ce ne sono due uno abitato e l'altro buone scuole la scuola locale è ottima e invece questo su una linea temporanea ricco dell'energia tipica della terra fertile qui spesso nascono dei gemelli questo è un appartamento adatto a una famiglia che vuole avere dei bambini ed infine c'è il quartiere delle arti sede del festival disastrarsi e disastri il quartiere delle arti bohemian è amato da musicisti artisti e creativi di ogni genere abbiamo questo con tre appartamenti uno già abitato questo anche questo è infestato e poi tranquillo sarà per via dell'isolamento dell'estrema educazione dei vicini ma questo posto non è mai rumoroso va bene quest'altro gnomi ma cosa ma che tratti hanno scelto sembra che gli oggetti rotti vengono acquistati aggiustati durante la notte è come se gli gnomi gentili sorvegliassero il posto wow questo è ottimo quindi se si rompe qualcosa c'è lo gnomo che te lo ripara folletti delle monetine spesso i sim trovano qualche spicciolo in questo posto è come se ci fosse una fattina segreta dei soldini o qualcosa di simile mi sa che questo appartamento è super fortunato perché trova simoleon così a caso e in più agli gnomi che gli riparano gli oggetti rotti 1200 simoleon sì effettivamente è un po' caro qua abbiamo invece centro delle arti quindi sarà sì una galleria qua ci sono due appartamenti uno abitato e questa invece è una residenza storica ok quindi c'è una targa una targa espirattice dedicata a un famoso inquilino storico non potrà mai essere rimossa va bene cosa ci manca? questo che è un altro attico però non me lo fa vedere ma penso sia quello e basta basta credo che come edifici non ci sia altro quindi da dove iniziamo? io in questo episodio pensavo di fare magari un giro così un po' veloce di tutto il quartiere giusto per darci un'idea di come è strutturato magari partiamo da il mercato delle spezie beh devo scegliere un lotto quindi scegliamo questo vediamo se ci sono tutti uno due tre quattro cinque sei sì i bambini li lasciamo a casa eccoci allora intanto siamo arrivati sì c'è ancora il raduno in corso perfetto siamo arrivati in questo locale per il karaoke ah ma si canta in stanzette private pensavo ci fosse tipo un palco anche perché con questa espansione hanno aggiunto l'abilità di canto sarebbe molto interessante svilupparla con uno dei nostri sim ma lasciamo pure stare per il momento questi lotti e diamo un'occhiata al quartiere allora abbiamo detto che questo è il quartiere dove c'è il mercato delle spezie però al momento non c'è nulla secondo me tipo i mercati i festival di cui parlavano avvengono in giorni specifici della settimana magari il giovedì non è uno di quei giorni uh qua vedo già che c'è la postazione per giocare a palla canestro e allora andiamo a giocare e inoltre mi dà anche il simboletto della manina perché ho scelto appunto che giocare a palla canestro è uno dei loro passatempi di gruppo ah si mettono anche l'abito sportivo bene questo cos'è lecce un insegno ah c'è anche un insegno da leggere ah i bambini sono andati a scuola ottimo tanto guardiamo anche punti del club vediamo cosa si può fare ah poverini dovevano andare in bagno eh vabbè resistete intanto casomai andiamo al bar allora tira a canestro tiri ravvicinati tira da due punti tiri libero e da tre punti ah c'è uno a livello 4 schiacciato no ma è bellissimo si ah si può anche sfidare un sim lo si può anche allenare poi cosa c'è eserciti esercitati a dribblare sogna in grande tiro di allenamento no ma è bellissimo allora dai proviamo con lui facciamo una schiacciata tiro in sotto mano l'altro non si può no perché richiede il livello 3 no dai non ce la fa più ah mi sa che no niente allora aspettate ma ci sono i bagni pubblici di solito mettono i bagni pubblici forse questo si usa il bagno mi conviene mandarle in bagno chi altro ha bisogno no lui ha fame no soltanto lui e allora facciamo con qualcun altro avrebbe fame quindi lui ha disagio perché ha fame ma aspetta perché qua ho visto qualcosa di molto interessante buongiorno qua ci sono dei piccoli chioschi vediamo cosa vendono esatto c'è del cibo e qua ci sono invece le bevande allora ordiniamo del cibo samosa adotti vegetariani bel puri ha dato sempre il vegetariane oppure il curry tutti i dati vegetariani facciamo il bel puri bel puri non so e allora proviamo a schiacciare con loro allora fai una schiacciata tiro in sottomano come funziona brava e invece allora vediamo questo non lo posso fare tiri ravvicinati penso sia quello che stanno facendo loro sì esatto lei è triste perché ah perché ha bisogno di socialità ma dai siamo con il club aspetta aspetta facciamo qualcosa facciamo una sfida sfida una gara di schiacciate sfidiamo lui no lui sta andando a mangiare come non detto sfidiamo allora Matilda e questo schiacciate Matilda vediamo se magari loro si spostano no secondo me non stanno facendo niente ah forse si deve togliere Lorenzo aspetta proviamo a distrarlo proviamo condividi un segreto ma cosa sta facendo Lorenzo c'è un telefono che suona ho saputo che in città c'è un circo di fama mondiale come c'è un circo andiamo a dargli un'occhiata ok ma cosa vuol dire un circo ma oh non è successo niente non ho ben capito no vabbè o era semplicemente una notifica così ma possiamo fare questa gara di schiacciate non la sono facendo no aspetta sfida schiacciate con lei ok si perché c'era Lorenzo proprio in mezzo aia povera wow bravissima invece forse hanno due abilità di fisica diverse magari la sua è più alta eh sì direi proprio di sì ah lei forse deve andare in bagno puoi farti la doccia mentre vai in bagno non so se ci sono le docci qui dentro ah però anche lei sbaglia e allora proviamo a cambiare adesso facciamo invece no sfida non ha voglia no perché è ancora in corso avete finito? no non me la fa più e allora facciamo questo esercita di adribblare non me ne intendo molto del termine tecnico della pallacadestro ah il palleggio ah vabbè scrivete palleggio va bene facciamo sogni in grande invece cos'è? oh sta sognando che ci sia la gente che lo sta guardando però non è andata molto bene riproviamo dai magari va meglio no poverino non ce la fa ma sono spariti tutti aspettate un attimo che li ho persi intanto lui lo mandiamo in bagno allora vediamo lei è andata in bagno però qui dentro non ci sono le docce accidenti poi cosa allora lui sta andando lei anche ah poverini sono troppo stanchi qua non avete le docce? no non hanno le docce dove dove è andato il bagno? dai mandiamoli tutti in bagno intanto chi è che sta meglio? lui forse no deve andare in bagno vai questo che cos'è? prendi un poster tutti i poster decidi sono già stati sgraffignati cosa vuol dire? non so cosa sia e questo? cerca palle di vetro con neve ok dai recessi più polverosi della scatola gratuita Matteo ha recuperato una palla di vetro con neve il grattacielo cittadino wow devono essere dei collezionabili intanto questo mi sembra molto interessante guarda una statua vivente insieme oh povera cos'è successo? mannaggia loro sono troppo stanchi facciamo una cosa finiamo qui il raduno abbiamo qualche punto abbiamo 254 punti cosa possiamo sbloccare? io sbloccarei uno di questi il saluto alto buffetto basso incrocio incrociato alto e basso davanti e dietro pugno contro pugno lo facciamo questo alto e basso davanti e dietro e lo facciamo con qualcuno vediamo se posso farlo perché loro poverini non ce la fanno più così quasi mi converrebbe magari torniamo un attimo a casa lui ha disagio perché? caviglia slogata no Mattia si è slogato la caviglia sarà dura continuare a giocare a pallacanestro in queste condizioni povero allora facciamo un saluto con lui rallega come si fa? guarda la situazione lasciano parla forse qui stretta di mano è complicatissimo ok allora teniamo qua chi sta meglio per esempio lei no quindi la mandiamo a casa lui sta abbastanza lei poverina deve andarsi a fare una doccia quindi la mandiamo a casa restiamo qua con loro due ah giusto ci sono anche Matilda e Lorenzo guardiamo la statua si può fare qualcosa? guarda la statua viventi insieme ah forse devo terminare il raduno si terminiamola altrimenti tornano indietro anche loro dai la mancia alla statua flerta con la statua prova che rivolge uno sguardo folle saluta con la mano spaventa ma povera anzi povero però è rimasto impassibile allora diamogli la mancia oh stanno facendo qualcosa qui questo chi è? anziano teniamo d'occhio questa cosa qui provoca sempre impassibile risvolge uno sguardo folle chissà se possiamo farlo anche noi cioè nel senso fare anche noi da statue non so quale abilità serva salutiamolo e allora facciamo anche un flirt dai proviamo voglio vedere se se fa qualcosa no no non gli interessa proprio dai diamogli la mancia e lasciamolo in pace questo cos'è? suona per strada con il violino chiede le mance ah devi avere una chitarra oppure un violino ah che bello questo serve per mettersi in strada a suonare questo non è nulla qua invece c'è qualcosa di interessante lancia una moneta ha fatto qualcosa? una moneta ben augurale e poi dicono che il denaro non compra la felicità però mi ha lanciato una moneta in una fontana che carina che è ah volevo anche leggere no questo non è come quello no ah volevo leggere queste leggere in segna vediamo se mi dice qualcosa uh c'è un altro di questi velocissim ti assicura solo il meglio in fatto di tecnologia degli pneumatici presentiamo l'SS01 questo pneumatico vanta un super design radiale pensato per il pilota più irriducibile l'assetto dello pneumatico è stato ideato per garantire il migliore equilibrio in termini di prestazione longevità trazione e consistenza se non riesci a migliorare i tuoi tempi sul giro con l'SS01 è probabile che lo pneumatico non sia il problema ma è bellissimo sono pubblicità cos'altro ah questo è chiuso mannaggia volevo bere qualcosa hanno già chiuso questo era il bagno ma lui non è ancora finito qui ah c'è anche questo no però non si può fare nulla cos'è ah si può anche dipingere per terra uh però qua ci conviene avere un'abilità un po' più sviluppata forse di di pittura dovevamo farlo con stella allora va bene direi che abbiamo visto tutto qua beh tutto in realtà no ci sono ancora tantissime cose da vedere in questo in questa porzione del quartiere per esempio non l'abbiamo visto la sala del karaoke poi quando fanno i festival ci dobbiamo assolutamente tornare per vedere in cosa consistono magari diamo un'occhiata alla vista wow allora questo dovrebbe essere diciamo l'area più popolare abbiamo dei condomini abbiamo visto prima a basso costo siamo anche nella zona di porto ci sono i gabbiani questo che cos'è no questo forse era un appartamento o forse no ah questa era una casa possiamo sbirciare dentro ah è tipo un loft che bello però se è una casetta singola non è un appartamento in un palazzo va bene che dite se torniamo a casa dai qua ci ma oh sta suonando no ci ha ripensato possiamo fargli lo stesso una mancia no perché non sta suonando questo è chiuso qua l'ho finito ah si prendi un poster ma poi non ho neanche visto cosa aveva raccolto palla di vetro a neve con neve alture yuma adesso andiamo a vedere cosa sono prendiamo un poster e poi andiamo a casa mi sa che in un unico episodio effettivamente non riusciamo a vedere tutto il quartiere volevo dare un'occhiata molto veloce però non si può bisogna vedere con calma ogni singola cosa perché è bellissimo questo quartiere quindi cosa abbiamo preso aspirazione di angsty non ho idea di cosa sia andiamo a casa eccoci qua allora vediamo un po' cosa abbiamo raccolto wow che bello questo aspetta mettiamolo subito da qualche parte forse qui c'è un posto no vediamo quanto grande è ah ma è piccolino e allora lo mettiamo qui che bello posso facere qualcosa attiva l'aura emotiva osserva e questi invece ah sono proprio quelle come si chiamano sì le palle di neve dentro hanno la neve se le scuoti che carino no c'è anche la neve che si muove rarità comune alture yuma e l'altro invece questo ci sta qui sopra ci sta così perché si è spenta la luce cosa è successo vediamo se arriva sì questo invece c'ha delle lucette grattacielo cittadino non comune queste secondo me le potremmo collezionare tutte sicuramente sono dei collezionabili ce ne saranno una marea vediamo se ci stanno qua una qua una là qui no non ci sta a meno che non sposto questo così così perfetto quindi sarebbe molto interessante collezionarle tutte devono essere bellissime e questo invece ha un'aura emotiva concentrata ottimo buona sapersi non abbiamo raccolto altro vero vediamo un po' no niente no queste sono le carte dei vuoto mossi ok allora io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio abbiamo visto una prima piccolissima parte del nuovo quartiere di San Maishuno magari possiamo dedicare i prossimi episodi a vedere le altre zone del quartiere e vediamo se siamo fortunati e becchiamo i festival perché sono molto molto curiosa di scoprirli comunque direi che possiamo fermarci qua con questo episodio quindi lasciate un like e un commento se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti